dream of high oh you know you try oh you know you try it's the worst case voilà, guardalo un po' così cosa vedi di Sofia là dentro? tutta la mia parte più cupa quella che mi fa sentire magari in tensione o innervosita per qualcosa proprio... che ti fa arrabbiare sta parte esatto, che mi fa arrabbiare però allo stesso tempo non è quella rabbia che esplodi no, è la rabbia che fermenta che è quella peggio perché uno esplode... e perché non la lascia andare? è una cosa che devo cercare di fare non puoi tenere dentro le muscoli lo so, che ho paura proprio di lasciarmi andare e allora se te prendi tira fuori il colore perché così poco? ne tiro fuori altro ma non ti sto dicendo di tirarlo fuori adesso poco a livello di colore è anche una metafora per dirti di tirarle fuori cioè se devi fare una cosa farla deve essere grande perché te lo meriti è anche una metafora per l'arrabbiare